Bentornati ancora una volta a bordo insieme a me della nuova Skoda Kamik che abbiamo provato in questo video qui in alto nelle schede grazie agli amici di Skoda Amicar Bari come di consueto ci troviamo a scoprire la tecnologia di bordo perché fuori fa veramente caldo abbiamo appena finito di pranzare e mi sono detto perché non andare a scoprire l'infotainmente tutta quanta la tecnologia di questo crossover cieco quindi andiamolo a scoprire insieme prima di iniziare con la scoperta del sistema infotainment di questa vettura voglio mostrarvi brevemente cosa abbiamo qui dietro perché questa è la variante a metano della Skoda Kamik e purtroppo non abbiamo a disposizione l'enorme cockpit digitale completamente virtuale con la sua strumentazione ma abbiamo comunque qualche visualizzazione interessante perché sulla sinistra c'è il contagiri, sulla destra il tachimetro fondoscala a 240 km orari e contagiri scusate con linea rossa a 6000 giri in basso indicatore del livello di metano in basso a destra invece indicatore del livello di benzina con il suo piccolo serbatoio ma scoprirete tutto nel nostro video e qui sul volante su questo bellissimo volante diversi pulsanti dietro abbiamo i satelliti per le frecce per quanto riguarda il cruiser attivo e la distanza e dall'altro lato un classico abbiamo i tergi cristalli ma sul volante abbiamo diversi pulsanti, controllo vocale, il rotore per il volume dei media, avanti e indietro con la traccia o con la stazione radio qui abbiamo la visualizzazione premendo sulla macchinina dell'in assist e del front assist con queste due freccette invece facendo avanti e indietro possiamo scoprire gli assistenti quindi clicchiamoci e abbiamo a disposizione appunto i due assistenti che vi ho fatto vedere poc'anzi inoltre la navigazione cliccandoci dalla bussola e il nome della via su cui ci troviamo in audio abbiamo audio bluetooth in questo caso oppure la radio e con il rotore ovviamente possiamo andare a cambiare e gestire le finestre da audio invece passiamo al telefono quindi con il mio telefono collegato via bluetooth lo stato del veicolo che ci mostra il rifornimento non vi preoccupate che a breve andrò sicuramente a fare il rifornimento i dati di marcia quindi il trip con il consumo medio in benzina l'autonomia in metano la qualità del metano, la climatizzazione, quanto consuma a ora la durata del viaggio, la percorrenza, la velocità media e il tachimetro in digitale con l'avvertenza dei limiti di velocità la temperatura a olio, la temperatura del liquido refrigerante e il consumo in litri a ora consumo medio in litri per 100 km e torniamo sull'autonomia infine assistenti ci fa tornare agli assistenti alla guida ora però è arrivato il momento di scoprire il funzionamento di questo infotainment in questo tablet con anche il gesture control che vedremo a brevissimo, un sistema molto semplice con una diagonale da 9,2 pollici e due bordi abbastanza cicciotti se avete notato abbiamo anche il sensore di prossimità perché le finestre dei bordi scompaiono soprattutto quelle in alto ma guardate vicino al mio dito e mi compare il pulsante per cambiare finestra della home page e anche la linea per il centro notifiche ma partiamo dal principio perché qui abbiamo 5 pulsanti verticali che danno accesso al menu principale alla home page, più o meno per il volume, spegnimento del volume quindi in muto sulla destra invece abbiamo le shortcut per la radio, i media, la connessione al telefono, il navigatore e le impostazioni del veicolo ma partiamo da questa home che è suddivisa in tre giganteschi widget abbiamo nella metà, diciamo nel terzo più a sinistra l'accesso in alto a telefono e ad audio quindi alla fonte media in telefono possiamo cambiare e inserire insomma dei preferiti, 10 numeri preferiti da chiamare direttamente e nei due terzi a destra troviamo il navigatore, uno shortcut che ci permette di cliccare e di avere accesso al navigatore tornando sulla home abbiamo un'altra pagina su cui con il più possiamo andare un po' ad aggiungere dei widget ma torniamo indietro a parte la home qui abbiamo il centro notifiche che abbassiamo con uno slide down e ci mostra la luminosità dello schermo oltre alle impostazioni dell'audio quindi per mettere in muto l'accesso alla navigazione torniamo in muto adesso immediatamente abbiamo le istruzioni della navigazione, le impostazioni del suono, insomma delle shortcut oltre al profilo e alla GPS quindi alla localizzazione della vettura ma torniamo nella home torniamo in questa finestra in alto abbiamo anche il centro notifiche dove non ce ne sono possiamo eliminarle qualora ce ne fossero e abbiamo la via dove ci troviamo in alto il GPS, l'orario, il volume, la connettività bluetooth con anche lo stato della batteria e della rete e la temperatura esterna questa era la home andiamo al menu che ci mostra due pagine due pagine che però con il gesture control possono essere anche cambiate in questa maniera guardate un po', non l'ha preso subito però ecco come vedete il sensore di prossimità mi fa passare anche con un effetto sonoro da una pagina all'altra ma quali sono queste finestre del menu principale? abbiamo la radio, il telefono, la navigazione, gli ADAS, i media, smart link, veicolo, suono ma anche la climatizzazione, i manuali utenti, le note legali per l'utilizzo di questo sistema gli utenti quindi i vari profili, il setup e anche lo shop perché si possono acquistare delle app da inserire in questo sistema connesso partiamo dal principio perché queste sono le shortcut ma noi vogliamo avere accesso al di là delle shortcut dal menu principale clicchiamo sulla radio, iniziamo a mettere le nostre sporche editate su questo bel gloss black abbassiamo il volume e abbiamo la stazione radio guardate un po' con i gesti avevo cambiato praticamente ecco come vedete con un semplice gesture control la lista dei preferiti ma lo posso fare ancora in maniera più pratica cliccando abbiamo l'elenco degli emittenti oltre a quello delle stazioni memorizzate la sorgente che può essere FM, DAB, i miei media quindi per esempio collegando con un cavo USB-C la web radio e l'audio Bluetooth qui in emittente abbiamo la singola stazione radio su cui siamo sintonizzati con il nome della radio il brano che in questo momento sta passando grazie alla DAB e il logo della stazione radio stessa in setup infine possiamo avere impostazioni del suono con l'equalizzatore la modalità con individuale o secondo un profilo quindi original, speech, rock o classica torniamo su individuale qui abbiamo il recentramento dei parametri la posizione, quindi il bilanciamento del suono all'interno dell'abitacolo il volume, quindi il volume del comando vocale oltre al volume massimo all'accensione all'adattamento del volume in base alla velocità all'audio del Bluetooth che può essere basso, medio o alto l'abbassamento dell'entertainment quindi della musica durante una fase di manovra per un parcheggio e le istruzioni del navigatore che possono essere disattivate possono essere estese, abbreviate o solo suoni di avvertimento magari per una svolta on, off o solo suoni di avvertimento durante le telefonate il volume del navigatore e l'abbassamento dell'entertainment durante un avviso del navigatore stesso queste erano le impostazioni del volume in setup, infine abbiamo i suoni del touchscreen che potrebbero esserci utili nel momento in cui non abbiamo un vero feedback aptico in questa vettura e quindi vogliamo sapere se effettivamente stiamo cliccando su qualche elemento oppure no io per adesso nel video lo lascio disattivato perché mi dà fastidio il suono dei tasti del menu e anche il feedback acustico dei gesti con mani un piccolo swoosh, diciamo così con questa onomatopea torniamo nel menu, questa era la radio il telefono, telefono che non vedremo perché attualmente sono connesso ve lo faccio vedere in breve nel prossimo tutorial vi mostrerò come effettivamente ci si collega via bluetooth abbiamo il tastirino oltre alla lista dei contatti le chiamate effettuate e il setup in setup possiamo selezionare un telefono connesso il numero di voicemail da inserire la gestione dei preferiti l'ordine in base al cognome oppure in base al nome con questo pulsante importiamo i contatti e qui abbiamo la lista appunto dei preferiti tornando nel menu andiamo alla navigazione in navigazione abbiamo una bella funzionalità pinch to zoom qui ci mostra il nostro itinerario in base magari alle tappe la scala con questa freccetta apriamo il menu a tendina da sinistra ma lo apriremo a breve con questo pulsante centriamo la visualizzazione della vettura con questa freccetta visualizzazione in 2d con visuale zenitale il nord puntato in alto visualizzazione in zenitale 2d ma con la direzione della vettura fissata in alto e anche visuale a volo d'uccello quindi in 3d premendo sullo schermo possiamo andare a cliccare con questo lo chiudiamo magari ricentriamo la vettura premendo sullo schermo possiamo inserire direttamente un indirizzo o con questi 3 pulsanti possiamo modificare la mappa quindi abbassare e alzare le istruzioni del navigatore le mettiamo in muto e anche avere una modalità automatica giorno come adesso quindi verde e gialla o notturna quindi marroncino nero e dorata che è molto più visibile è meno fastidiosa di notte ma la lasciamo in automatico oltre a questo abbiamo le impostazioni impostazioni del navigatore che ci può chiedere sempre oppure su off o su on diciamo avvisi per evitare problemi di viabilità la visualizzazione di informazioni per destinazione o singole tappe l'indicazione dell'ora di arrivo della durata del viaggio le informazioni sul paese al valico di frontiera magari attivi o meno così come attivi o meno possono essere cartelli di avviso su strade di grande comunicazione l'avvertimento del carburante e la segnaletica stradale oltre ovviamente alle impostazioni per quanto riguarda il rimorchio con una velocità massima che tiene conto del rimorchio appunto o anche la navigazione che magari può evitare qualche passaggio un po' più impervio quando abbiamo un rimorchio al seguito le istruzioni del navigatore possono essere attive ma l'abbiamo vista già prima e anche le funzioni di base possiamo attivare un apprendimento del comportamento da parte dell'utilizzatore eliminarlo stabilire le categorie preferite dei punti di interesse quindi fare imparare la vettura per esempio sulle nostre abitudini se ogni giorno andiamo a caso a lavoro in un luogo preciso possiamo inserire un indirizzo privato o un indirizzo di lavoro oltre alla modalità demo torniamo indietro questa è la mappa come vi ho fatto vedere funzionalità pinch to zoom molto ben leggibile ma premiamo sulla freccetta abbiamo accesso appunto alla scrittura con un tastierino con i punti di interesse in alto alla ricerca nelle ultime destinazioni raggiunte alle tappe con dati non disponibili attualmente perché non abbiamo un itinerario attivo e anche delle destinazioni suggerite in base proprio all'apprendimento della vettura su ciò che facciamo di solito torniamo sul menu scopriamo l'assistenza alla guida con gli ADAS abbiamo innanzitutto il front assist quindi il sistema di monitoraggio della distanza tra gli altri veicoli per la strada possiamo disattivarlo possiamo avere un preavvertimento con tempistiche medie tardi o presto o addirittura su off e anche la visualizzazione dell'avvertimento di distanza con questa i possiamo notare come appunto l'auto ci dà una descrizione quindi rileva se il veicolo si trova a distanze critiche avvisa il conducente con segnali visivi e acustici e anche una breve frenata se necessario anche frenata d'emergenza automatica utilissimo andiamo sull'ACC che sarebbe il cruise control adattivo che segue un profilo di guida eco, comfort, normal o sport in base appunto all'accelerazione della vettura se deve modificare la sua velocità l'ultima distanza selezionata la distanza da chi ci precede è molto piccola piccola, media, grande o molto grande inoltre abbiamo il rilevamento della stanchezza del guidatore attivo e anche la vibrazione del volante per quanto riguarda l'enassist quindi il mantenimento di corsia premiamo su I appunto il momento in cui il veicolo esce dalla corsia di percorrenza le informazioni invece sul rilevamento della stanchezza sono basate su informazioni caratteristiche quali uso del volante ore e durata del viaggio con apposite segnalazioni visive e acustiche quindi segnali universali che denotano appunto che il guidatore magari è stanco in setup possiamo attivare o disattivare tutti i sistemi torniamo su menu nei media abbiamo la possibilità di ascoltare della musica tramite per esempio il bluetooth ma appunto abbiamo praticamente quasi le stesse funzionalità se non che qui la musica è divisa per playlist interpreti album generi compositori compilation titoli podcast audiolibri e anche apple music radio sono categorie infinite abbiamo la categoria dei preferiti i dettagli della canzone in questo caso un brano di madame con le freccette per andare avanti e indietro mettere pausa o play la riproduzione casuale lo shuffle e anche un toggle per andare in un punto preciso del brano la sorgente quindi come ve lo fate vedere prima e anche il setup con la gestione dei preferiti le impostazioni del suono che già conosciamo oltre alla selezione del dispositivo audio bluetooth e notiziali sul traffico attivi o disattivati torniamo sul menu smart link questo è il sistema che ci permette di collegarci con un cavo usbc ad android auto apple carplay o mirror link qui abbiamo le info ci spiega cosa sono tutti questi sistemi e nel setup possiamo andare un po' a scegliere i dispositivi mobili disponibili veicolo queste sono le impostazioni e le visualizzazioni delle informazioni dell'auto stessa possiamo selezionare lo stato del veicolo quindi in questo caso uno stato ottimale comunque del veicolo se non che dobbiamo rifornirci di GNC che sarebbe la sigla per quanto riguarda il metano con la freccetta possiamo tenere sotto controllo anche la pressione degli neumatici dallo stato del veicolo inoltre possiamo cliccare su questa piccola vettura su seleziona e visualizzare invece i dati del trip i dati di marcia che possiamo vedere come guidatori davanti ai nostri occhi dietro il volante ma in grande qui ci mostra il viaggio attuale con i chilometri percorsi l'ora di viaggio dalla partenza ovviamente dal reset la velocità media il consumo medio in kg su 100 km per il metano e in litri su 100 km per la benzina l'autonomia rimanente per il metano che attualmente purtroppo è zero e corro a fare carburante e anche l'autonomia residua in benzina oltre a questo abbiamo la visualizzazione anche di lungo periodo o quella dall'ultimo rifornimento di carburante molto molto comodo in setup abbiamo il sistema sc attivo o l'asr off in pneumatici possiamo settare la pressione o anche l'avvertimento di una velocità eccessiva per i pneumatici invernali con un avvertimento a 30 km orari ad esempio o anche modificabile più o meno le luci abbiamo la sensibilità alle sensore rifanali media, alta o bassa gli anabaglianti automatici in caso di pioggia le frecce comfort la modalità di viaggio con circolazione a destra o a sinistra in base a dove ci troviamo nel mondo o anche l'illuminazione degli strumenti e degli interruttori al 90% ci va bene ma anche la funzione di coming home e di living home quindi 10 secondi prima e dopo aver aperto ho chiuso la vettura parcheggio e manovre attivazione automatica per il controllo del parcheggio con i sensori il volume dei sensori anteriori posteriori il volume dietro il suono dietro l'abbassamento dell'entertainment e anche la funzione del freno di manovra anzi no perdonatemi perché qui abbiamo il volume e il suono per quanto riguarda l'entertainment ma abbiamo anche per quanto riguarda le impostazioni dei sensori di parcheggio infatti adesso ne approfitto perché prima di procedere metto la retro e vi faccio vedere anche la retrocamera widescreen con una visualizzazione diciamo chiamiamola fisheye più che widescreen molto distorta quasi come una gopro con questo pulsante abbiamo accesso alla simulazione dall'alto con non l'immagine degli ostacoli quanto la distanza dagli stessi rilevata dai sensori di parcheggio anteriori e posteriori possiamo disattivare i sensori di parcheggio e il loro volume con questo pulsante torniamo sulla retrocamera aumentarne la visualizzazione e modificarne anche l'aspetto quindi con la luminosità con il contrasto e anche con la saturazione per migliorare la visibilità della retrocamera in ogni situazione togliamo la retro spegniamo i sensori perché siamo vicini ad un muretto anteriormente specchietti e tergi cristalli qui abbiamo accesso alla chiusura al bloccaggio degli specchietti quindi con il telecomando della vettura la tergitura automatica in caso di pioggia e il tergil 1.8 automatico apertura e chiusura ci dà accesso all'apertura comfort di tutti i finestrini o solo di quello conducente la chiusura centralizzata apre o chiude tutte le porte o c'è anche il blocco automatico durante la marcia quadro strumenti ci mostra possiamo scegliere di vedere tutto ciò quindi consumo attuale medio i dispositivi comfort i consigli eco molto interessanti la durata del viaggio la percorrenza la velocità media il tachimetro digitale l'avvertimento dell'eccesso di velocità la temperatura a olio e anche il reset dei dati di marcia dalla partenza o anche di lungo periodo ora è data ci fa modificare in automatico o secondo il GPS o in manuale l'orario possiamo attivare l'ora legale il fuso orario e anche la data unità ci mostra l'unità di misura per quanto riguarda la distanza in chilometri o miglia la velocità in chilometri orari o miglia orarie la temperatura in gradi celsius o fahrenheit il volume in litri o galloni secondo il sistema statunitense o del regno unito il consumo del carburante in litri su 100 chilometri chilometri al litro o miglia per gallone secondo i sistemi statunitense o del regno unito il consumo di metano in chili per 100 chilometri chilometro al chilo metro cubo per 100 chilometri chilometri per metro cubo lasciamo per chili su 100 chilometri e infine la pressione in bar kpa o psi torniamo indietro infine il service ci dà il numero di telaio e anche le ispezioni quanti giorni o chilometri ci rimangono per la prossima ispezione suono sono le impostazioni che abbiamo visto prima quindi passiamo alla seconda pagina climatizzazione questo è il controllo del clima può essere automatico manuale che è quello che ci dà più controllo con il settaggio dell'aria condizionata la direzionalità delle ventole con lo sbrinamento verso il petto verso le gambe la temperatura di uno o dell'altro lato secondo il clima bizona anteriore o possiamo sincronizzarli e con questa levetta possiamo andare ad abbassare per alzare la velocità dell'evento lo lasciamola piuttosto bassa ma presente perché in macchina fa veramente caldissimo torniamo sul menu i manuali ci danno accesso appunto all'utilizzazione per quanto riguarda la struttura di questo sistema i comandi e l'adattamento prima o poi questi nostri video su WeDrive diventeranno inutili perché sarà l'auto ad insegnarvi tutto ciò abbiamo anche il manuale per la navigazione per il telefono per la radio per i media o il manuale generale per il controllo vocale questo qui l'altro era per il sistema le note legali di questo sistema stesso ora magari potremmo anche evitare di aspettare che le carichi tutte gli utenti possiamo scegliere un profilo per un utente magari nella stessa famiglia più persone guidano la stessa vettura ma hanno preferenze diverse per la radio o per altre impostazioni le impostazioni di questo sistema quindi abbiamo l'impostazione dello schermo attivare il salva schermo entro 10 secondi la luminosità che può essere media alta molto alta molto bassa o bassa i suoni del touch dei tasti del menu mostra l'orologio quando l'infotainment è spento i sensori di prossimità il gesto con le mani il feedback ottico dei gesti con le mani e anche acustico ora è data l'abbiamo visto poco fa lingua italiano ovviamente la lasciamo ma sono disponibili tutte le lingue altre lingue per la tastiera bulgaro bosniaco cieco danese tedesco insomma tutti i caratteri che magari in italiano non sono presenti le unità le abbiamo viste prima il comando vocale ci dà accesso alla visualizzazione del sistema infotainment dei comandi le impostazioni del suono di avvio e di missione o fine del comando del dialogo vocale e anche la parola di attivazione inoltre abbiamo impostazioni del wifi quindi avere l'infotainment come hotspot una connessione rapida con l'infotainment e anche la selezione del wifi la connessione dati con una sim quindi una sim e sim in questo caso con i pacchetti disponibili la gestione dei dispositivi mobili resetta le impostazioni standard informazioni di sistema con l'aggiornamento del software il copyright di questo sistema e l'assistente di configurazione aiuta a effettuare le prime impostazioni però a noi francamente non interessa infine shop ci dà la possibilità di andare un po' a visualizzare un negozio virtuale per andare a selezionare magari dei prodotti da inserire all'interno di questo sistema infotainment quindi magari delle app specifiche per questo sistema molto interessanti come se fosse praticamente uno smartphone questa quindi era la tecnologia di bordo della nuova Skoda Kamik fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate lasciateci un bel like se questo video vi è piaciuto e come fare per essere aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti vi basta iscrivervi al nostro canale cliccare sul campanello e cercarci praticamente dovunque anche sul nostro sito internet oltre che su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente digitando e ci sono